Musica Ciao, allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 1 del 2018 del Livre Rocher album che è pieno di novità, tanto ci sono le novità make up, le novità per la cura del corpo soprattutto i nuovi doccia schiuma, i set per la cura del viso come sempre e tantissime offerte per San Valentino set a regalo, idee, profumi, set profumati, davvero un album wow che vanno infatti fino al 14 febbraio del 2018 e iniziamo a sfogliarlo allora eccoci qui con l'album, album numero 1 che come vi ho detto scade il 14 febbraio 2018 vediamo intanto la novità che sono questi rossetti wow dall'effetto matt dicono che durano fino a 8 ore senza seccare posso dire comunque che effettivamente sono confortevoli sulle labbra e hanno una buona durata 12,95 il prezzo lancio e i colori sono tutti questi, davvero sono tanti, sono davvero molto belli quindi i nude, i malva, i rosa e i rossi andiamo avanti e iniziamo con il set per la cura della pelle, il primo della linea sebo vegetale 9,95 compende il geodetergente purificante e l'acqua micellare purificante 2 in 1 altro set, se no eccolo qui, si è il sito vegetale 11,95, crema delicata detergente e l'acqua micellare nitiva 2 in 1 ora abbiamo con tutti i, l'acquisto di un trattamento rimpolpante giorno oppure notte si ha in omaggio in anteprima il nuovo trattamento compattezza, eccolo qua quindi acquistiamo un trattamento giorno oppure una notte e in omaggio è la mini taglia la 7 ml del nuovo trattamento compattezza vediamo ora il set mani da fata che comprende a 6,95, il concentrato antifreddo e la crema mani idratante a lunga durata idea regalo per San Valentino sono tutti i set profumati quindi ad esempio questo con il latte cotto profumato, il gel doccia profumato ed il profumo da 50 ml e il cofanetto 39,95 oppure 44,95, il set Common Evidence Solixir Pulpor 39,95, sempre il profumo più il latte corpo più il gel doccia idea regalo anche per l'uomo, quindi il set 32,95 comprende le toilette da 100 ml, il gel doccia corpo e capelli più il cofanetto se no 29,95 comprende il profumo da 75 ml e il gel doccia corpo e capelli, sempre con questo bel cofanetto oppure il set 99,95 che comprende il gel da barba e il balsamo dopo barba oppure il set da 99,95 con lo schiuma da barba e il balsamo dopo barba per le pelli sensibili vediamo i set eccoli ad esempio questo è il set delle plesignature, il set sensuale che comprende a 14,95 il bagno doccia alla vaniglia il bagno doccia a noce di cocco il sapone alla vaniglia barba crema mani alla vaniglia sempre il cofanetto più questa salvietta ospite se no a 14,95 c'è anche il set ed eccitante che comprende il bagno doccia a mango e coriandolo bagno doccia a melograno e peperosa il sapone a mango e coriandolo la crema mani a mango e coriandolo il cofanetto e la salvietta oppure il set esotico con il bagno doccia a noce di cocco il bagno doccia a fiorizziare il sapone sempre a noce di cocco la crema mani sempre al cocco il cofanetto e la salvietta oppure 9,95 i set più piccoli quindi questo è il set energizzante comprende i dei tre bagno doccia ecco di quattro il cofanetto i bagno doccia sono quelli a lampone e menta piperita mango e coriandolo e mandarino e legni di cedro oppure il set sensuale sempre con i tre bagno doccia e comprende il vaniglia barba noce di cocco e fiori chiare oppure il set rilassante che comprende il bagno doccia oliva e petit grain mandorle e fiori d'arancio fiori di loto e salvia ultimo il set eccolo qua che comprende le tre nuove fragranze che sono melagrana e peperosa fiori di cotone e mimosa e magnolia e tè bianco 9,95 il set che direi che è davvero una promozione se no anche singolarmente si possono scegliere i tre profumi eccoli qua nel formato da 400 ml oppure da 200 ml e questo era tutto l'album allora abbiamo svegliato tutto l'album avete visto che è davvero un album wow pieno di novità e super profumato vi ricordo come sempre che qui sotto nell'info box ci sono tutti i contatti per le informazioni e per gli ordini e ci sono sempre anche i link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti con il magico naturale mondo di Brochet